1, 2, 3, hit it, out run Stamattina andiamo nei 7 palazzi, interveniamo in questo modo L'ispettore stabile e l'ispettore Mellace con la squadra investigativa andranno in avanscoperta Faranno irruzione tentando di bloccare se è possibile lo spacciatore, le vedette e di trovare la droga Dopodiché interveniamo noi per fare tutto ciò che resta in uniforme Per vedere se ci sono tossicodipendenti da segnalare in prefettura Per cui faremo questo intervento di due battute Prima la squadra investigativa, poi noi con le uniformi Va bene? Siamo pronti? Andiamo Allora Gli uomini del commissariato di Scampia partono per una picchiata Un blitz antispaccio ai 7 palazzi Le macchine in borghese, senza farsi vedere dalle vedette Proveranno ad avvicinarsi il più possibile al pusher Per arrestarlo prima che scappi Pronto? Enzo, vedi adesso Siamo davanti, eh? Sì, va bene, aspettiamo Ti devi tenere più distante Perché già abbiamo individuato forse che sono i pali Va bene Vedi che c'è il giubbotto col pellicciotto Giubbotto nero, giubbotto però sta in piedi Eccolo là, eccolo là, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto Sì, stava vicino allo spacciatore prima Lo spacciatore però sta dentro Ecco, vai, 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 vai Mi ferma, mi ferma Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua Quello mi ha segnato le spetture Fermami un attimo No, ce ne sta bene Sta scappando, sta scappando Ok Ma qua di là Dai con la macchina di là, con la macchina Porca puttana, la luce cimera Ma non è che sono usciti di là Non mi ha visto Non mi ha visto La faremo Allora Prese Niente Andiamo anche alla vedetta Andiamo anche alla vedetta Da qua scappando Sono in drive Direi sono scappati Va bene Non è grave Ci abbiamo provato Le vedette hanno fatto bene il loro lavoro E lo spacciatore è stato più veloce dei suoi inseguitori Non c'è garanzia di successo per gli agenti di Scampia E la tenacia è l'arma più importante a loro disposizione Andiamo a vedere Si hanno messo Comunque si hanno messo le schermature La camorra blenda i portoni dei palazzi Per poterli chiudere dall'interno all'arrivo della polizia In questo modo gli spacciatori hanno il tempo di nascondere la droga e scappare indisturbati Hanno rimesso, vedi qua Hanno rimesso sia la schermatura Anche le staffe Scorso Vedi che là hanno rimesso le staffe e la schermatura Quindi Dobbiamo far rimuovere Qua pure No, 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 se li guardate Si li guardate bene una volta Vedi che è un po' l'opera 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 Gli rompiamo tutto e poi se ne parla Eccoli qua Droga, droga Non toccate Non toccate C'è qualcosa? Si Non toccate Vediamo la possibilità C'è droga, eh? Si Ah c'è droga? Ah bene, bene Dov'è? Si sono cilindretti E presumo hashish Si Tutto Tutto il supermercato al completo Hashish Cocaina ed eroina E' questo il carico abbandonato Dallo spacciatore in fuga Ora io direi Visto che qua Non siamo riusciti a prendere nessuno Andiamo a andare nel Nel Tia Ci possiamo andare Loro vanno dietro E noi andiamo davanti Ok, allora organizziamoci noi Enzo, allora tu vai dall'ATB E noi andiamo in Tia Va bene Michele Spina e i suoi uomini Non si arrendono Decidono quindi di spostarsi In un altro lotto di edilizia popolare I palazzi Tia e Tia A Scampia Lo spaccio non si ferma mai Ed è per questo Che non si può fermare mai Nemmeno il lavoro Delle forze dell'ordine Caffare, mi senti? Ispettore, dite Vi senti? No, Enzo Devi fermare, Enzo Non devi vedere là Perché ti vedono subito da qua Ok, allora ci fermiamo Fermati Fermati qua Fermati qua Noi andiamo da dietro Ok, va bene Ci fermiamo Fermo qua? Sì, sì Fermati qua Fermati qua Vedi se riesce a individuare il palo Vedi che stanno Vedi che stanno in fila Stanno in fila Stanno in fila Stanno i spacciatori tossici Tutti quanti in fila Questo cappello può essere un palo Ma ti notate lo spacciatore È chiuso all'interno del cancello? No, no, no Adesso sta fuori Sta fuori Sta fuori Forse è finita la roba La stanno andando a prendere Tu tieniti pronto Perché noi attraversiamo E loro se ne scapperanno Da l'altro da fianco Va bene, va bene Uno dei pali con il giubbotto marrone con il cappuccio Alfa, l'hai visto con il giubbotto marrone? Si sa guardare Io ci sa guardare Enzo vai avanti a T.A. Che noi le facciamo correre di là Vai a T.A. Veloce Va bene, veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Veloce Blocca mi Blocca mi uno col cappuccio Tieni il giubbotto marrone Scuro col cappuccio beige E tieni il cappellino blu in testa Me lo devi bloccare Cappellino blu in testa Me lo devi bloccare Cappellino blu Stanno scappando Stanno scappando Stanno scappando Stanno scappando Stanno scappando Stanno venendo a te Poi scendo pure io Polizia E ti manda coppacuo Eccolica Pure quest'altro Pure quest'altro Dai blocca questo Blocca Blocca Ferma Coppacuo Sul copano Mani sul copano Sto cercando Mani sul copano Mani sul copano Ancora Non lo sapevo Ma non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo No Non lo sapevo Che c'era Non lo sapevo Cosa Ma è E dove vedi Il Il Da fanno. Abbiamo bloccati di qua eh? Quanto rimane qua? Gira. Apre le lambe. Tu sei maggiorenne? Sì. Tu sei maggiorenne? Piccolo? Sì. Tira fuori dalle tasche quello che c'hai. Ah c'è il fumo? C'è una canna d'erba. Ma tu sei acquirente? Sei tossico? Sono uscito da poco da carcere dopo 5 anni. Per cosa? Che avevi fatto? Sequestro di persone. A scopo? A scopo di niente. Sono stato pallonato dalla mia canna d'erba. Spettone allora? Abbiamo preso avuto, avevano solo i soldi però. Ho capito. No di qua abbiamo fermato le vedette noi. Vabbè ora entriamo nel cancello. Vediamo che spacciatore stava in giro. Che ha detto? Hanno fermato uno di là e lo stanno controllando. Lo spacciatore oppure uno? Eh lo stanno controllando. Lo devono vedere un attimo. Vedi un po' con me. Andiamo a vedere un po' qua dentro come sta la situazione. Quanti anni hai? Venti. Lavori? Stampe. Dove lavori? Qua? Che stai facendo? Qua. La vedetta? Sì? Quanto guadagni al giorno? 200 euro al giorno. 200 euro al giorno? Quanti anni hai? 21. 21. Sto bene signor, in controllo. In controllo, non vi preoccupate. Ma signore chi è? Siete la mamma? Sì, sì. Giovane. Chi è questo? Spacciatore. Quella è la tua? Sì, c'era in tasca. Io sono perso. I soldi che c'hai addosso? Sì, sono i miei figli. Quanti sono? Con 1.000 euro. E che fai con 1.000 euro? E io ora sono sceso. Fai la Dio. Cioè sei sceso a fare che? Ora sono sceso a lui. E con 1.000 euro in da sacca? Eh ma io devo fare il battesimo di mia figlia domenica. Cioè tu devi fare il battesimo di tua figlia e sei sceso con 1.000 euro e sei venuto qua dentro. Come 1.000 euro. Ma ce l'ho dicendo? 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 Di dove è? Di Bari. E che sei venuto a fare qua? A comprare hashish in materiale. Cosa? Per comprare un po' di hashish. Per fumare. Da Bari? Ah beh, non ci stiamo. Dove hai abitato voi? Dove hai abitato? Io? Ah, sono il dottor Ronavi. Chi? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Stamico? Eh buona. Prego? Come si chiama? Stamico? Eh buona, è un amico. Non è un amico, è un amico a loro. A che piano si chiama? Non c'è uno piano, si è un po' perché mi soffiù. Un po' piano pezzatetto. Questa è che l'altro vale? Io? 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 Andi. Sì. Salve. Voi chi siete? Mi ha seguito, c'era. Il mio amico, il mio amico. Il mio amico, il mio amico. Il mio amico, il vostro figlio? E che stava facendo? E che stava facendo? E che stava facendo? E che stava facendo? Un po' e uno subito viene arrestato. Ci te ce lo dici a me? Subito! Non lo dici a me? Uno che non fa niente, non può tenere mille lire in quello. Sai che è che subito viene arrestato. E qua? E si. Sprenghi? Oh! La gente risponde al telefono del palo e fingendosi il ragazzo, convince i suoi complici che il pericolo ha cessato. I due agenti si dividono e, senza farsi vedere, accerchiano le vedette. I due ragazzi non sanno di essere stati identificati e credono di poter passare inosservati. Ragazzi, pochi documenti? Lotto? Il telefono è rotato. Michele, aspetta, chiamano a poco, aspetta. Poi chiamano che c'è fuci. Sei fuori strunzo, non puoi il telefono, lo chiamano tu, chiamano. Eccolo qua. Il tuo amico ha detto che sta facendo la vedetta. No, ma io sto prendendo le vedette, la chiamano perché non lo chiamano. Vieni con noi. Procedendo di penale tu, giovane? No? Che lavoro fai? Sì, sì. Tu che lavoro fai? Sì, facendo l'aeroporto. L'aeroporto? Sì. E che fai? No, carica e scarica il bagaglio. Sì, sì. La picchiata ai palazzi del TATB ha portato al fermo di uno spacciatore e di quattro vedette. La zona è stata abbonificata, ma lo spaccio riprenderà molto presto, molto vicino. Il giorno dopo, il primo dirigente, Espina, con i vigili del fuoco, va a smantellare i cancelli ai sette palazzi. Rimuovendo una blindatura, si strappa un pezzo di scampia dal controllo della camorra. Cioè, tu renditi conto che questi si chiudono dentro e chi abita nel palazzo non può entrare. Cioè, deve chiedere il permesso, deve bussare e chiedere il permesso. È una follia, è proprio una follia. Pensa un po', vedi? Questa qua è la penna con cui scrivono i conti dello spaccio. Seduti qua. Per due, due cinquanta. Per due, due cinque play, si è sicuro che assicuro? Sampia non è solo il territorio dello spaccio, ma è anche il luogo dove la droga viene consumata. Pusciro e tossicodipendenti sono facce della stessa moneta e i due fenomeni vanno affrontati insieme se si vuole cambiare la vita di questo quartiere. Si chiamano stanze del buco, le tane dove i tossici vanno a drogarsi. Sono luoghi tremendi in cui il degrado raggiunge livelli inaccettabili. Signori buongiorno, volete uscire per piacere con i documenti alla mano? Signori uscite fuori! Forza! Forza! Forza uscite! Scorso ci sono altri? Sarà una signora, una ragazza. Oddio mio! E ora esci tranquilla, piglia un documento che qua dobbiamo buttare tutto giù. Lo sapete che non c'è. Ho capito, ma intanto vieni fuori, piano piano, calma calma e serena. Sì sì. Alziamo se... Come? Cianco. Pure c'è altra gente? Chi ci sta? Gente che significa? Chi sta? Vieni fuori. Vabbè, vieni fuori, poi dopo ragioniamo fuori. Vieni fuori, vieni fuori. E c'è la ragazza. Buongiorno signora, vuole uscire per piacere? Numero signora, c'è l'astinenza. Stai l'astinenza? Ho capito. Vieni fuori, chiamiamo un'ambulanza e lo facciamo portare all'ospedale. Forza! Allora, qua dobbiamo togliere un po' di schifezza da qua dentro, dobbiamo ripulire. Non possiamo lasciare, chiudere e lasciare questo scempio. Qua dentro c'è un ragazzo che praticamente dice di non poter uscire, per cui se non può uscire, evidentemente non sta bene. Non posso entrare se non può uscire. E allora fate l'uscire. Ce la fanno bisogno di aiuto? No, ce la facciamo. Però dobbiamo essere certi che il ragazzo stia bene. E allora esci, se puoi uscire esci. E allora esci, se puoi uscire esci. La continua distruzione dei portoni blindati e gli innumerevoli interventi contro Pusher e Vedette ha costretto la camorra a diminuire lo spaccio attraverso i cosiddetti cancelli e a spostarsi nuovamente in un luogo che la polizia aveva bonificato solo due anni fa, le vele. Questo complesso di enormi palazzoni, dopo il libro di Roberto Saviano, è diventato il simbolo di Gomorra. Nella prossima puntata di Sirene continueremo a raccontarvi questa storia, questa continua lotta tra Forze dell'Ordine e Camorra, attraverso un imponente blitz, proprio nelle vele di Scampia. L'ispettore Mellace con la squadra investigativa andranno in avanscoperta. Faranno irruzione, tentando di bloccare, se è possibile, lo spacciatore, le vedette e di trovare la droga. Va bene? Siamo pronti? Andiamo. Vedi se ne scendevi dal palo. Vedi che stanno in fila, stanno in fila, stanno gli spacciatori tossici, tutti quanti in fila. Tu tieniti pronto perché noi attraversiamo e loro se ne scatteranno dall'alto del piano. Va bene, va bene. Stanno guardando, ci stanno guardando. Enzo vai avanti a TIA che noi le facciamo correre di là. Vai a TIA, veloce. Va bene, veloce, veloce, veloce. Blocca uno col cappuccio, tiene il giubbotto marrone, scuro col cappuccio beige. Stanno scappando, stanno scappando, stanno scappando, stanno scappando. Ecco, vai, 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 vai. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Stanno scappando, stanno scappando. Stanno scappando, stanno scappando, stanno scappando. Dai, blocca questo, blocca, 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 blocca. Oh, ferma, ferma. Troppo buco. Sì, sì. Sul cofano. Mani sul cofano. Sto cercando. Mani sul cofano. Mani sul cofano. Master! Sono male lontano. No, no, non univo, non univo. Sono male lontano. Non lo so a lei, ma roba la pancia. Si. No, no, no. Fai guardato squiore. Sì. Aiuto uomo. Angefilmissimo. Celso. Eccoli qua, droga, droga. Non toccate, non toccate, ma cosa? Sì. Non toccate, mi diamo a gustare per te. C'è droga, eh? Sì. Ma c'è droga? Ah, va bene, va bene. Dov'è? Sì, sono cilindretti e presumo a scisce. Sì, sì, facciamo. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sirene. Quella che avete appena visto è soltanto l'anteprima di ciò che vi mostreremo tra poco. Oggi continuiamo il nostro viaggio in una delle realtà più difficili d'Italia, Scampia. Tra i palazzi di questo quartiere alle porte di Napoli, la Camorra ha creato un vero e proprio supermarket della droga. Qui si può trovare di tutto e ovunque. Dopo aver combattuto lo spaccio nelle strade e nei portoni, la lotta alla droga si sposta all'interno delle vele. Quel complesso di palazzi è divenuto ormai il simbolo del degrado di Scampia. Gli agenti della squadra investigativa si nascondono nelle vele prima dell'arrivo di spacciatori e vedette. Questo è l'unico modo per coglierli di sorpresa. Ragazzi, in questo momento sono passato ogni volta. Che c'è nel mano? No, non mancola niente. Stanno solo facendo un algoritmo. Stanno venendo a vedere se c'è la polizia. C'è anche il modo di non fare tanti deboli. Ci sono posizionati. Per i reparti aggregati, cioè per il reparto mobile, per il reparto prevenzione di crimine Campania, vi spiego lo scenario in cui oggi dovremo operare. Faremo un intervento di tipo militare nelle vele. Nelle vele già dall'alba di stamattina sono appostati gli uomini della squadra investigativa. La camorra cerca, attraverso i simboli, di manifestare il proprio potere, la propria protervia criminale. Come lo fa a Scampia? Si impossessa di un lotto di edilizia popolare. Elimina il cancello normale. Lo sostituiscono con un cancello in ferro schermato con una feritoia, di cui i condomini non hanno le chiavi. Si chiudono dentro, attraverso la feritoia, il pusher, pratica lo spaccio. Loro in questo modo comunicano alla gente onesta del posto quanto sono forti, quanto sono potenti. Andiamo a divellere, a rompere questi cancelli, dimostrando a loro che non sono nessuno, ai camorristi, e alla gente onesta che non sono soli. Quest'azione sui cancelli, che noi stiamo portando avanti da più tempo, ha indotto gli delinquenti a non costruire più queste opere abusive. Si sono insediati nelle vele di Scampia. Approfittano del fatto che le vele sono alte, quindi lo spacciatore materiale si mette, per esempio, al quarto piano, dove spaccia. Le sentinelle si mettono sui viali di accesso. Quando noi arriviamo, le sentinelle avvertono il pusher. Il pusher ha moltissime vie di fuga e ci sono molti nascondigli in cui buttare la droga ed è molto difficile di trovarla. Noi entreremo nella vela celeste frontalmente, con un ingresso visibile, perché entreremo incolonnati, con il reparto mobile, con le prevenzioni. Quest'azione ci consente, anche per un solo giorno, anche per una sola ora, di riconquistare un territorio. Cioè, quando noi interveniamo, i camorristi, i delinquenti, sono costretti a fuggire, ad allontanarsi. E questa è un'ulteriore dimostrazione di presenza dello Stato. Gli spacciatori e le vedette fuggono come topi da una nave in fiamme. Ma inutilmente, perché verranno fermati dagli agenti appostati attorno alle vele. La camorra comincia a perdere potere. Le vele non sono più territorio suo. La camorra comincia a perdere. La camorra comincia a perdere. La stanza del buco, un luogo da incubo, dove la dipendenza diventa disperazione. Gli agenti di polizia decidono di non intervenire. Di non usare la forza, perché un tossicodipendente a cui viene tolta la dose è già sciolta nel sangue. Può entrare in crisi e reagire in maniera imprevedibile con atti di autolesionismo e ferirsi provocandosi un'emorragia. Vini fuori, dai. Aspettate, mangio una zinaia tutta la cosa. Oh, Dio mio, che tragedia. Non c'è un'esoluzione. Oh, mamma mia. Ma escyta televisioni o non faceci dov'avyss Corinth? Oh, mamma mia. Lawals, forza! Dai, escy, forza! Sì, è stato un po' di occupanza, si è sicura che il settimottico spenale No, 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 no. Incredibile, fermati dai, basta, buttala dai, buttala, oddio mia, oddio mia, senti, ora ti chiamo un'ambulanza e ti faccio portare in ospedale, ma non esiste questa cosa, ma non è possibile questo fatto, basta dai, forza, faccio tanto, ma non c'hai i soldi per farlo, oddio, esci fuori dai, forza, madonna mia, in questi casi non può essere imposto il trattamento sanitario obbligatorio, ma i tossicodipendenti saranno tutti identificati e segnalati alle autorità competenti. Tieni qualcosa in tasca? Che una roba, no, me la so fatta, non ce l'ho, no. Allora, tutte le prevenzioni con me, andiamo a togliere... Ma che, prima li voglio vedere questi cancelli? Sono cancelli nelle scale secondarie che non esistono, l'hanno messi loro, per non farci salire. Li voglio vedere? Sì. Alle vele la camorra alza muri e cancelli abusivi, barriere costruite per bloccare la strada all'arrivo della polizia e garantire comode vie di fuga agli spacciatori. Andiamo a vedere questi cancelli? Andiamo a vedere I Tunti casa dei Puffi l'asilo del buco lo abbiamo abbattuto, la scuola occupata, l'IPIA l'abbiamo chiusa e sgomberata, la valle dei sogni quelle cose le abbiamo abbattute, ma qua come facciamo? Cioè qua che abbatti? A parte dovremmo abbattere vele, ma poi se anche io le facessi chiudere dagli operai, quelli vanno online, ci sono mille, miliardi, quindi non ha senso, purtroppo non ha senso, quindi dovremo tornare con grandissima frequenza a liberare fino a che non riusciamo a dissuaderli dal venire. La maggior parte delle persone che vivono a Scampia sono persone oneste, costrette purtroppo a vivere a stretto contatto con una fortissima presenza criminale. Tra le tante associazioni di volontariato e istituzioni che cercano di migliorare le cose in questo quartiere, un ruolo molto importante è ricoperto dal commissariato di polizia. Il blitz ha portato numerosi fermi alla chiusura della stanza del buco e alla demolizione di muri e cancelli abusivi. La lotta alla droga però non finisce qui, perché le infiltrazioni criminali sono radicate nel territorio e la guerra alla camorra è lunga e difficile, ma Scampia non è un quartiere senza speranza. fine, 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 fine! Che fai qua? Lavori o cosa? Ah, sono giocato qui oggi, non so. Ah? Fegli il telefono. Feroci. Ah, fra voi. Che si vede a affacare? Sono giocato qui oggi. Oh, via c'è! Sì! A qua spacciano, eh? Dentro questo... Ah, patrice. Mi fagioletti perché giustamente si sboccano le mani e si devono detergere. Ma qua c'è la chiave della porta blindata, che non so che cosa. È la pena per fare i conti. Dove sono due? Qua? 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 E due? E due? In questo infinito inseguimento tra forze dell'ordine e criminalità a Scampia la droga continua a prosperare come una malattia incurabile. Ma la polizia non si arrende e decide di mettere sotto controllo una nuova piazza di spaccio aperta ai sette palazzi. Il numero di tossicodipendenti in attesa della loro dose è impressionante. I camorristi come fosse una qualsiasi attività commerciale organizzano file ordinate di clienti. I pusher chiusi dentro ai portoni e protetti dalle vedette continuano a lavorare e non sono identificabili dalla polizia. Ai sette palazzi le famiglie passano accanto ai tossicodipendenti in fila e sono costretti a chiedere allo spacciatore di aprirgli la porta. Solo allora possono rientrare in casa loro. Per chiudere questa piazza di spaccio gli uomini del commissariato di Scampia devono trovare il modo di identificare tutti gli spacciatori e avere prove incontestabili da portare al processo. Abbiamo fatto il sopralluogo e il punto per mettere la telecamera ci sarebbe. Loro potrebbero riuscire a vederla questa telecamera? Potrebbero vederla perché è a un metro dallo spacciatore quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Facciamo in questo modo iniziamo a fare un'azione continua di pressione su questa piazza di spaccio Incominciamo a martellare. Loro dobbiamo pensare che noi facciamo azioni inefficaci. Capito? Quando sono tranquilli gli piazzano la telecamera. Va bene. Ciao. Gli agenti intensificano i controlli aspettando il momento buono per posizionare la microcamera. E dopo pochi giorni quel momento arriva. Ha inizio l'operazione Murena. A presto. 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 Quando ha fermato la zona, lo spaccio riprende come se niente fosse. Chiuso dentro al portone, il pusher ricomincia a vendere eroina, cocaina e crack. Ma questa volta, per la prima volta, tutto viene registrato dalla microcamera della polizia. Attraverso la feritoia, i tossicodipendenti infilano la mano con i soldi e pochi istanti dopo la ritirano con la droga. Lo scambio avviene a un ritmo impressionante e sembra non finire mai. Come on, come on! ecco ma qua lei voglio vedi stanno le immagini della telecamera voglio mettere la fianco al tavolo perchè tu puoi riconosci buono buono lo ho da lavare bellissimo guarda che immagino questi lini che lo do con moneta questi coglioni e giuliano questi li teniamo tutto quanti ma che sono i pistrell però vado all'asso avvicinate le camera e non se ne accorge di niente ma è un continuo esagerato guarda che cosa stai su che zi merda la vecchia ma si sta appiccicando mezza di là hai chiesto per me stai lì stai tenendo vai vai chi sta là la foretta vai vai il momento quando passiamo una voca ci hai fatto da picchiare il motore da fuori capri sono ore e ore di filmati poco per uno, poche pacienze quindi mettetevela in pace i prossimi giorni a presto Gigi vieni a vedere questo se non mi sbaglio dovrebbe essere un ragazzo si chiama Gennaro se non mi sbaglio cioè il casco con il numero 69 cioè rimassavano fermi appena è arrivato lui hanno ripreso l'attività di spaccio e allora porti i pacchettini la deduzione è questa ma se è così dobbiamo attenzionare un attimino meglio la seguiamo vediamo sicuramente se è il corriere questo ci porta l'appoggio guarda 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 60 ma sicuramente non si toglie mai il casco eh 69 fa le cose velocemente fa le cose velocemente un po' di pedinato sicuramente per aver riporti i pacchettini sicuramente l'operazione murena entra nella fase più delicata per capire da chi si rifornisce il corriere con il casco 69 viene messo sotto costante controllo dagli uomini della squadra investigativa vedi che dovrebbe essere dovrebbe star arrivare dovrebbe arrivare si si lo vedo adesso angelo riprendi angelo riprendi che sta arrivando in questo momento con il motorino si sta venendo adesso sta citofonando però non si vede bene dove ha bussato lo stai riprendendo angelo? si ce lo si vede bene? ecco adesso sta uscendo ok si si sta uscendo sta uscendo va bene allora Gigi ce l'abbiamo l'unico problema è che non vediamo dove citofono ok non c'è problema mettiamo la macchina domani mattina alle 5 al buio mettiamo la telecamera che inquadra citofono una telecamera viene piazzata dentro una macchina parcheggiata fin dall'alba davanti al portone in cui il corriere si rifornisce di droga in questo modo gli agenti riescono a individuare l'appartamento a cui citofono i corriere ormai per chiudere l'operazione Murena non manca che l'ultimo passo noi abbiamo fatto un bilancio una decina di spacciatori sono identificati tutti pienamente i pali identificati siamo arrivati a 33 persone benissimo a questo punto io penso 33 persone tra vedette e pusher io direi di chiudere così non rischiamo che se ne accorgano anche perché ci siamo messi paura perché è arrivato lo spacciatore che ha guardato proprio a 20 cm dalla telecamera però non l'ha vista io voglio capire una cosa di tutti quanti i 33 abbiamo gli indirizzi precisi cioè abbiamo fatto l'anagrafico perfetto abbiamo gli indirizzi qualcuno ha anche un doppio indirizzo anche un doppio indirizzo dobbiamo verificare ho capito quindi per questi qua dobbiamo prevedere delle pattuglie per ogni indirizzo in modo da poter andare conto perché se poi quelli l'avvertono siamo fottuti allora va bene io preparo il piano per effettuare gli arresti a posto così a posto così a posto così a posto così l'operazione Murena si è conclusa con l'arresto di 33 persone un duro colpo per la camorra ma nessuno si illude con questa operazione di aver fermato il fenomeno dello spaccio di droga a Scampia noi ovviamente non sappiamo quale sia la soluzione a questo problema ma ciò che è costretto a subire la popolazione di Scampia è inaccettabile si chiama Sistema ed è il modo in cui viene nascosta la droga all'interno dei palazzi di Scampia le immagini che vedrete sono state girate dalla squadra investigativa con un cellulare e dimostrano l'ingegno sia degli spacciatori che dei poliziotti io vi saluto e grazie per averci seguito allora stiamo registrando ecco questa siamo sul terrazzo dell'8TA questa è una delle cabine dove stanno i motori dell'ascensore di una scala all'apparenza non c'è nulla di anomalo uno entra si guarda in giro e c'è questo filo di rame abbandonato diciamo un filo di corrente abbandonato ora con questo filo vai Cicci fa vedere che succede invece questa è la scatola dei comandi apparentemente normale si inserisce non c'è ancora niente e poi non c'è nulla Enzo ecco qua c'è un pulsante che sgancia ecco qua cosa succede? si sgancia e voilà sistema uno dei tanti sistemi per nascondere ecco qua erba e fumo eh ma che c'è roba ottimo rimento questo funziona eh vabbè vi dà roba prima tiratilmo che fa e poi c'è un scasso no? qua 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 la stanza del buco un luogo da incubo dove la dipendenza diventa disperazione che sta da fare? ognuno si prende uno di questi signori e li portiamo qua per identificare leva di questa siringa e lasci fuori eh appunto dai come una tenda così scusate c'è tanta cosa fuori hai bisogno di un'ambulanza no non ci bisogna leva di questa cosa dai no appunto la mangia proprio la cosa le agenti di polizia decidono di non intervenire di non usare la forza perché un tossicodipendente a cui viene tolta la dose e già sciolta nel sangue può entrare in crisi e reagire in maniera imprevedibile con atti di autolesionismo e ferirsi provocandosi un'emorragia vieni fuori dai aspetta da mangiare la zina è tutto il vostro oh dio mio che torre è non c'è buio sono uscente oh mamma mia dai esci forza aspetta da aspetta da non c'è buio non c'è buio non c'è buio oh dio si fa bene oh dio oh 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 ti porti lo spenale oh ti ho ce l'hai documenti per voi oh 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 Grazie a tutti Eh fermati dai, basta Buttala dai, buttala Oddio mia Oddio mia Senti, poi ti chiamo un'ambulanza e ti faccio portare all'ospedale Ma perché? Ma non esiste questa cosa, ma non è possibile questo fatto Basta dai, forza Faccio tanto, ma non c'è i soldi per farlo Oddio Cioè, prima stavano fermi, no? Appena è arrivato lui, hanno ripreso l'attività di spaccio Eh, allora porti i pacchettini Eh, la deduzione è questa Ma se è così dobbiamo attenzionare un attimino meglio Eh, lo seguiamo, vediamo sicuramente se è il corriere che si ci porta Si, ci porta dove sta l'appoggio grande Guarda, 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 guarda Sicuramente non si toglie mai il casco Eh, 69 Fa le cose velocemente Fa le cose velocemente Un po' di vetina Noi si può chiamare un uomo e se c'è Lorenzo Eh Sicuramente Cioè Per me li porti i pacchettini Sicuramente L'operazione Murena entra nella fase più delicata Per capire da chi si rifornisce Il corriere con il casco 69 Viene messo sotto costante controllo Dagli uomini della squadra investigativa Vedi che dovrebbe stare, dovrebbe stare arrivare Dovrebbe arrivare Sì, sì, lo vedo adesso Angelo, riprendi, Angelo, riprendi che sta arrivando In questo momento con il motorino Sì Sta venendo Adesso sta citofonando Però non si vede bene dove ha bussato Lo stai riprendendo, Angelo? Sì, ce lo Si vede bene? Ecco, adesso sta uscendo Ok Sì, sì, sta uscendo Sta uscendo Va bene, allora Gigi ce l'abbiamo L'unico problema è che non vediamo dove citofono Ok Non c'è problema Mettiamo la macchina domani mattina Alle 5 al buio Mettiamo la telecamera che inquadra il citofono Una telecamera viene piazzata dentro una macchina Parcheggiata fin dall'alba davanti al portone in cui il corriere si rifornisce di droga In questo modo gli agenti riescono a individuare l'appartamento a cui citofono i corriere Ormai per chiudere l'operazione Murena non manca che l'ultimo passo Noi abbiamo fatto un bilancio Una decina di spacciatori sono identificati tutti pienamente I pali identificati Siamo presciando il corriere Abbiamo... Guarda, c'è un appartamento dove l'avete finito Siamo arrivati a 33 persone Benissimo Beh, a questo punto io penso 33 persone tra vedette e pusher Io direi di chiudere Così non rischiamo che se ne accorgano Anche perché ieri ci siamo messi paura Perché è arrivato uno spacciatore che ha guardato proprio a 20 cm dalla telecamera La continua distruzione dei portoni blindati e gli innumerevoli interventi contro pusher e vedette Ha costretto la camorra a diminuire lo spaccio attraverso i cosiddetti cancelli E a spostarsi nuovamente in un luogo che la polizia aveva bonificato solo due anni fa Le vele Questo complesso di enormi palazzoni dopo il libro di Roberto Saviano è diventato il simbolo di Gomorra Nella prossima puntata di Sirene continueremo a raccontarvi questa storia Questa continua lotta tra forze dell'ordine e camorra Attraverso un imponente blitz proprio nelle vele di Scampia L'ispettore Mellace con la squadra investigativa andranno in avanscoperta Faranno irruzione tentando di bloccare se è possibile lo spacciatore, le vedette e di trovare la droga Va bene? Siamo pronti? Andiamo Vedi se ti esce indipidato il palo Vedi che stanno in fila, stanno in fila, stanno gli spacciatori tossici tutti quanti in fila Tu tieniti pronto perché noi attraversiamo E loro se ne scapperanno dal lato della pianta Va bene, va bene, si sa guarda, si sa guarda Enzo vai avanti a Altiaga, noi li facciamo correre di là, vai a Altiaga, veloce Va bene, veloce, 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 veloce Vloccami uno col cappuccio, tieni il giubbotto marrone, scuro col cappuccio beige Stanno scappando, stanno scappando, stanno scappando, stanno scappando Ok Guarda lì va Dai con la macchina di là, con la macchina Polizia, fermi E ti mando coppuccio Eccoli qua Pure quest'altro, pure quest'altro, pure quest'altro Dai, blocca questo, blocca, 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 blocca Oh, ferma, ferma Coppa buco Sul cofano, mani sul cofano Sto cercando Mani sul cofano Basti Basti Sì No no, non è inizia, non è inizia, non è inizia, non è inizia Parla Noi entreremo nella vela celeste frontalmente con un ingresso visibile perché entreremo incolonnati, con il reparto mobile, con le prevenzioni. Quest'azione ci consente anche per un solo giorno, anche per una sola ora di riconquistare un territorio, cioè quando noi interveniamo i camorristi, i delinquenti sono costretti a fuggire, ad allontanarsi e questa è un'ulteriore dimostrazione di presenza dello Stato. Gli spacciatori e le vedette fuggono come topi da una nave in fiamme, ma inutilmente perché verranno fermati dagli agenti appostati attorno alle vele. La camorra comincia a perdere potere, le vele non sono più territorio suo. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. La stanza del buco, un luogo da incubo, dove la dipendenza diventa disperazione. La stanza del buco, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo. La stanza del buco, un luogo da incubo, dove la dipendenza diventa disperazione. Che stanno facendo? Ognuno si prende uno di questi signori e li portiamo qua per identificare. Levati questa siringa e lasci fuori. E appunto, voi non andate così, scusate, non c'è tanta cosa fuori. Gli agenti di polizia decidono di non intervenire, di non usare la forza, perché un tossicodipendente a cui viene tolta la dose già sciolta nel sangue può entrare in crisi e reagire in maniera imprevedibile con atti di autolesionismo e ferirsi provocandosi un'emorragia. Vieni fuori, dai. Aspettate, mangio così, non è tutto questo. Oh, Dio mio, che tragedia. Non c'è uno che sta uscendo. Oh, mamma mia. Dai, esci, forza. Non c'è uno che sta uscendo. Incredibile. Non vuole perché... Eh, fermati, dai, basta. Buttala, dai, buttala. Ma c'è quello che è tutta roba. Oddio, mia. Oddio, mia. Senti, ora ti chiamo un'ambulanza e ti faccio portare in ospedale. Ma è perché? È perché non esiste questa cosa, ma non è possibile questo fatto. basta dai bloccami uno col cappuccio tiene il giubbotto marrone scuro col cappuccio beige stanno scappando stanno scappando stanno scappando stanno scappando ecco vai 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 eccolo qua eccolo qua eccolo qua sta scappando sta scappando guarda lì va vai con la macchina di là con la macchina polizia e ti manda coppuccio ecco lì qua pure quest'altro pure quest'altro dai blocca questo blocca 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 oh ferma ferma sul cofano mani sul cofano mani sul cofano ecco Eccoli qua, droga, droga. Non toccate, non toccate, c'è qualcosa? Sì. Non toccate, mi diamo a gustare per te lo dico. C'è droga, eh? Sì. Ah, c'è droga? Ah, va bene, va bene. Dov'è? Sì, sono cilindretti e presumo a scisce. Sì, ci facciamo. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sirene. Quella che avete appena visto è soltanto l'anteprima di ciò che vi mostreremo tra poco. Oggi continuiamo il nostro viaggio in una delle realtà più difficili d'Italia, Scampia. Tra i palazzi di questo quartiere alle porte di Napoli, la Camorra ha creato un vero e proprio supermarket della droga. Qui si può trovare di tutto e ovunque. Dopo aver combattuto lo spaccio nelle strade e nei portoni, la lotta alla droga si sposta all'interno delle vele. Quel complesso di palazzi è divenuto ormai il simbolo del degrado di Scampia. Gli agenti della squadra investigativa si nascondono nelle vele prima dell'arrivo di spacciatori e vedette. L'operazione Murena entra nella fase più delicata. Per capire da chi si rifornisce, il corriere con il casco 69 viene messo sotto costante controllo dagli uomini della squadra investigativa. Vedi che dovrebbe essere, dovrebbe star arrivare, dovrebbe arrivare. Sì sì, lo vedo adesso. Angelo riprendi, Angelo riprendi che sta arrivando in questo momento con il motorino, sì. Sta venendo. Adesso sta citofonando. Però non si vede bene dove ha bussato. Lo stai riprendendo, Angelo? Sì, ce l'ho. Si vede bene? Ecco, adesso sta uscendo. Ok. Sì, sì, sta uscendo. Sta uscendo. Va bene, allora Gigi ce l'abbiamo. L'unico problema è che non vediamo dove citofono. Ok. Non c'è problema, mettiamo la macchina domani mattina alle 5, al buio, mettiamo la telecamera che inquadra citofono. Una telecamera viene piazzata dentro una macchina, parcheggiata fin dall'alba davanti al portone in cui il corriere si rifornisce di droga. In questo modo gli agenti riescono a individuare l'appartamento a cui citofono i corrieri. Ormai per chiudere l'operazione Murena non manca che l'ultimo passo. Noi abbiamo fatto un bilancio. Una decina di spacciatori sono identificati tutti, pienamente. I pali identificati. Siamo presciando il corriere, abbiamo, guarda, c'è l'appartamento dove va dentro Cristo. Siamo arrivati a 33 persone. Benissimo. Beh, a questo punto io penso, 33 persone tra vedette e pusher. Io direi di chiudere, così non rischiamo che se ne accorgano. Anche perché io ci siamo messi paura perché è arrivato uno spacciatore che ha guardato proprio a 20 cm dalla telecamera, però non l'ha vista. Io voglio capire una cosa, di tutti quanti i 33 abbiamo gli indirizzi precisi, cioè abbiamo fatto l'anagrafico perfetto, abbiamo gli indirizzi. Qualcuno ha anche un doppio indirizzo. Anche un doppio indirizzo dobbiamo verificare. Ho capito. Quindi per questi qua dobbiamo prevedere delle pattuglie per ogni indirizzo, in modo da poter andare conto, perché se poi quelli l'avvertono siamo fottuti. Allora, va bene, io preparo il piano per effettuare gli arresti. A posto così. Molto presto, molto vicino. Il giorno dopo, il primo dirigente, Espina, con i vigili del fuoco, va a smantellare i cancelli ai sette palazzi. Rimuovendo una blindatura, si strappa un pezzo di scampia dal controllo della camorra. Cioè tu renditi conto che questi si chiudono dentro e chi abita nel palazzo non può entrare. Cioè deve chiedere il permesso, deve bussare e chiedere il permesso. È una follia, è proprio una follia. Pensa un po', questa qua è la penna con cui scrivono i conti dello spaccio. Seduti qua. Per due, due e cinquanta. Per due, due e cinquanta. Sampia non è solo il territorio dello spaccio, ma è anche il luogo dove la droga viene consumata. Puscero e tossicodipendenti sono facce della stessa moneta. E i due fenomeni vanno affrontati insieme se si vuole cambiare la vita di questo quartiere. Si chiamano stanze del buco, le tane dove i tossici vanno a drogarsi. Sono luoghi tremendi in cui il degrado raggiunge livelli inaccettabili. Signori, buongiorno. Volete uscire per piacere con i documenti alla mano? Signori, uscite fuori. Forza, 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 uscite. Scorso, ci sono altri? Sarà una signora, una ragazza. Oddio mio. E ora esci tranquilla, prendi un documento che qua dobbiamo buttare tutto giù. Ho capito, ma intanto vieni fuori, piano, piano, calma, calma e serena. Come? Pure c'è altra gente? Chi ci sta? Gente che significa? Chi sta? Vieni fuori, poi dopo ragioniamo fuori. Buongiorno, signora, vuole uscire per piacere? Non so che vuole fare, signora, c'è un'astinenza. Stai in astinenza? Ho capito, ma viene fuori, chiamiamo un'ambulanza e lo facciamo portare in ospedale. Forza. Gigi, vieni a vedere questo, se non mi sbaglio, dovrebbe essere un ragazzo che si chiama Gennaro, se non mi sbaglio. C'è il casco con il numero 69. C'è, prima stavano fermi, no? Appena è arrivato lui, hanno ripreso l'attività di spaccio. E' come porti i pacchettini? Eh, ma se è così dobbiamo attenzionare un attimino meglio a questo. Seguiamo, vediamo sicuramente se è il corriere, questo ci porta l'appoggio. Sì, ci porta l'appoggio grande, guarda, 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 60. Un fatto che non si toglie mai il casco. Eh, 69. Fa le cose velocemente. Fa le cose velocemente, un po' di pedinato. Facciamo un po' a bisognare Lorenzo. Eh. Sicuramente il corriere. Certo. Per me li porti i pacchettini. Sicuramente. Sicuramente. L'operazione Murena entra nella fase più delicata. Per capire da chi si rifornisce, il corriere con il casco 69 viene messo sotto costante controllo dagli uomini della squadra investigativa. Vedi che dovrebbe essere, dovrebbe star arrivare. Dovrebbe arrivare. Sì, sì, lo vedo adesso. Angelo, riprendi, Angelo, riprendi che sta arrivando in questo momento con il motorino. Sì. Sta venendo. Adesso sta citofonando. Però non si vede bene dove ha bussato. Lo stai riprendendo, Angelo? Sì, ce lo. Si vede bene? Ecco, adesso sta uscendo. Ok. Sì, sì, sta uscendo. Sta uscendo. Va bene, allora Gigi ce l'abbiamo. L'unico problema è che non vediamo dove citofono. Ok. Non c'è problema, mettiamo la macchina domani mattina alle 5, al buio, mettiamo la telecamera che inquadra il citofono. Una telecamera viene piazzata dentro una macchina, parcheggiata fin dall'alba davanti al portone in cui il corriere si rifornisce di droga. In questo modo gli agenti riescono a individuare l'appartamento a cui citofono i corriere. Ormai, per chiudere l'operazione murena, non manca che l'ultimo passo. Noi abbiamo fatto un bilancio. Una decina di spacciatori sono identificati tutti, pienamente. I pali identificati. Ma non è che sono usciti di lato? No, non ho visto. Non mi ha visto. No. La faremo? Allora? Presi? Niente. Neanche la vedetta. Neanche la vedetta. Da qua scappando. Sono in dry, direi sono scappati qua. Va bene. Non è grave. Ci abbiamo provato. Le vedette hanno fatto bene il loro lavoro e lo spacciatore è stato più veloce dei suoi inseguitori. Non c'è garanzia di successo per gli agenti di Scampia e la tenacia è l'arma più importante a loro disposizione. Andiamo a vedere. Si hanno messo... Comunque si hanno messo le schermature. La camorra blenda i portoni dei palazzi per poterli chiudere dall'interno all'arrivo della polizia. In questo modo gli spacciatori hanno il tempo di nascondere la droga e scappare indisturbati. Hanno rimesso, vedi qua. Hanno rimesso sia la schermatura che le staffe. Scorso, vedi che là hanno rimesso le staffe e la schermatura, quindi... dobbiamo far rimuovere... qua pure... se li guardate... se li guardate... se li guardate... se li guardate bene... vedi che è un po' l'operto print... vabbè comunque qua dobbiamo scassare tutto eh... peccato... peccato... noi rompiamo tutto e poi se ne parla. Eccoli qua, droga, droga. Non toccate, non toccate, c'è qualcosa? Sì... C'è droga eh, sì. Ah c'è droga? Ah, va bene, va bene. Dov'è? Sì, sono cilindretti... e presumo hashish eh? Sì, sì... Tutto... tutto il... supermercato... al completo, ok? Hashish, cocaina ed eroina. E' questo il carico abbandonato dallo spacciatore in fuga. Ora io direi... eh... visto che qua... non siamo riusciti a prendere nessuno... vogliamo andare nel... nel TA? Ci possiamo andare? Loro vanno dietro, noi andiamo davanti. Ok, allora organizziamoci noi. Enzo, allora tu vai dalla... non le facciamo correre di là, vai a TA, veloce. Va bene, veloce, 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 veloce. Blocca mi, blocca mi uno col cappuccio, tieni il giubbotto marrone, scuro col cappuccio beige. E tieni il cappellino blu in testa, me lo devi bloccare. Cappellino blu in testa, me lo devi bloccare. Cappellino blu... stanno scappando, stanno scappando, stanno scappando... stanno venendo tempo che scendo pure io. Polizia, fermi! E ti mando col cappuccio! Eccoli qua! Pure quest'altro, pure quest'altro, pure quest'altro! Dai, blocca questo eh! Blocca, 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 blocca! Oh, ferma, ferma! Col cappuccio! Sì, sì, questo blocco, vedo! Sul cofano! Mani sul cofano! Sto cercando... Mani sul cofano! in mani sul, le niente! Majestė iš! Chepanek! Sì, non mi fai mai. No, non mi fai mai. Non mi fai mai mai. Non mi fai mai mai. Non mi fai mai mai. E dove vieni, Dettino? E caccia. E dove? Sono andato a mio fratello. Vieni qua. Devi fare un po' di footing. C'è l'affanno. L'abbiamo bloccati di qua, eh. No, vieni da nessuno. Mentre le mani qua. Sono andato a mio giro. Apre le lambe. Ah, le mani. Tu sei maggiorenne? Sì. Tu sei maggiorenne, è piccolo? Sì. Tira fuori dalle tasche quello che c'hai. Ah, ce l'ha il fumo? No, è una canna d'erba. Ma tu sei acquirente? Eh? Sei tossico. Sì. Sono uscito da poco da carcere, dopo cinque anni. Per cosa? Che avevi fatto? Sequestro di persone. A scopo? A scopo di niente. Sono stato pallonato dalla mia ragazza. Allora? L'abbiamo preso avuto, avevano solo i soldi però. Ho capito. No, di qua abbiamo fermato le vedette noi. Vabbè, ora entriamo nel cancello. Vediamo che spazzatore stava lì. Che ha detto? Hanno fermato uno di là e lo stanno controllando. Un stacciatore oppure uno? Eh, lo stanno controllando. Lo devono vedere un attimo. Vieni un po' con me. Andiamo a vedere un po' qua dentro come sta la situazione. Un po' con me.